acting challenge versione italiana duetta con me tu hai le battute verde moccio tesoro altri 10 minuti poi esci e come no si si è che potevo stare qui tutto il pomeriggio salve 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 anche suo figlio sta nella vasca delle palline si quale è suo figlio è quello lì con il cappellino degli avengers ah ecco il mio è quella con la febbra di supermario ma ha una macchia marrone sul di dietro si è cagato addosso no è che prima prima si è seduto sul gelato a cioccolato si si dicono tutti così come si chiama suo figlio mio figlio si chiama luigi ma in famiglia lo chiamiamo tutti luigino che coincidenza anche il suo figlio si chiama luigi no siamo a svaldo ma in famiglia lo chiamiamo osvaldino mamma osvaldo mi ha dato uno spintone osvaldo chiedi scusa le pedone ma sono un bambino non ne può capitare luigino picchia osvaldino ma che dice ma che regola insieme a suo figlio mi scusi la prego dica qualcosa tesoro no i calci sotto la cintura sempre lei è una pazza mamma 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 mamma